Ragazzi, porto delle fantastiche notizie Pizza Tower è stato aggiornato e da come so hanno aggiunto semplicemente un nuovo intero personaggio Che è The Noise E vedremo che cosa cambia, a differenza di Peppino La story mode di The Noise Quindi ora, senza esitazioni Ok Siamo bene Eccolo Peppino si prende una pausa E ora il suo rival Che penso che sono diventati amici a questo punto Vediamo come corre Ah ok, con lo skateboard Ok Ma è solo un reskin No, cambiano i controlli Sì, cambiano i controlli Perché a quanto paro Se io ho sprinto Posso, ok Ok Ok, ok Non posso rampicarmi sui muri con The Noise E come lo faccio questo? Oh no Ah ok, colpendo Premendo Z il muro Rimbalzo più volte, ok E qui a quanto pare Posso diventare un tornado Oh, oh wow Oh wow Forse The Noise è più agile di Peppino A quanto pare Ok, qui è il rocket jump E a quanto pare non devo manco splittare Per farlo Forte Quanto per invaso posso Mantenere immediatamente la speed Ok, forte E ci abbiamo fatto Oh, ci abbiamo fatto pure Sbloccare tutti i portali Per il lap 2 Voglio subito mettere alla prova Queste mie nuove abilità di movimento In John Gatter Vediamo se cambia qualcosa Magari è Noise Gatter Eh sì, teoricamente è Noise Gatter Finora non ho visto arrivare a Mach 4 Cioè sapete cosa è Mach 4? No, Hyper Speed Parato Però per il resto sono molto simili Noise pure ha un grande potenziale Oh, sai cosa? A sto punto Possiamo fare il P-Rank Guardalo Incazzatissimo Allora, una cosa che ho notato È che Il L'Uppercut L'attacco verso l'alto Cioè vola tantissimo Nooo, la mia cuba Maddannazione Ecco qua Ah, ok Ah, ok È facile allora Posso benissimo saltare Toccare il muro E immediatamente volare Forse un giorno pure Pepperman sarà giocabile Che ne so a sto punto Voglio vedere Pepperman O O Vigilante Penso che la Noise Ha la rabbia Si nota da come afferri In i mischi Oh, Mach 4 Oh, ok È finita È stato bello Finché è durato Oh, facciamo Facciamo la Q2 Perché no? Oh, the noise fomentatissimo Su quel televisore In alto a destra Una piccola cucina di cocaina Questi effetti che fanno And we Did it Giusto in tempo Oh Ok, per favore Stavo, stavo un attimo Facendo un casino Perfect La mia stessa reaction No Qua voglio fare il P-Rank Ok Qua ci proviamo Veramente Mi servono più punti possibili Tutti fuori Fatemi strada Vediamo Oh Sono diventato il cavaliere Della tavola buffet Ci troviamo Sto imparando Oh Non sbatte prima Si Va direttamente Non sbatte prima E poi cambia direzione È velocissimo Quel coltello Ha tirato fuori un coltello No Niente P-Rank E vabbè Ehi 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 Oh no Oh no 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 I messed up Sono bloccato Aspetta un attimo Ok No È un po' di momentum No 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 Sono bloccato Ok C'è un fatto Mamma mia È stato Terrificante Ok Ok Questo Questo potrebbe essere Un problema Questo potrebbe essere Un problema No Questo potrebbe essere Un problema Non posso filmarvi Potrei aver fatto Un casino Potrei aver fatto Un casino Aiuto Oh no Oh Oh Ti prego Fammi uscire Fammi uscire No Sono bloccato Mezz'ora Su sta parte Oh yes Ce l'ho fatta Mamma mia Non so se ce la faccio a fare Dell'hack 2 A sto punto Oh c'è noi 7 C'è noi 7 Si vede che la musica è cambiata Colpiscivi Con un donut Con una ciambella Oh Intensa la musica Intensa Veloce Abbiamo Sai cosa vai Vai proviamo Come va va Oh no Vai The noise Non fermarti Non fermarti Ti prego Ti devi muore No God damn I have failed Ok proviamo Blot sostanzi Ok Noi sei un pazzo C'è si vede Da tutte le Tutte le animazioni E' la definizione Di youtuber Ma pure un programma televisivo Come youtube Erano un canale Youtube Ha senso Ok Questa Wow Cosa ho fatto Wow che parata Wow il tornado Comunque lo dovevo imparare ad usare Bellissimo Ma sono invincibile Come tornado Però Però non posso saltare Come tornado Questa è la differenza Eppure No Non posso nemmeno Uccidere i nemici Si capisce niente In questo gioco Ma Ma è normale Perché È pizza tab Già il nome Ti deve far capire Che non ha senso Ok Qua è utilissimo Per scendere Qua è utilissimo Per scendere Il tornado Se non ci fossero i nemici Sarebbe utilissimo Infatti è utilissimo Oh che cos'ho I vestiti rossi Provate i vestiti rossi Oh no Oddio sta parte Ok No aspetta Come salgo qui Aspetta No 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 Ah giusto Il super jump Che sto facendo C'è il super jump Dove usare il super jump Dove usare il super jump Stupidissimo io Non ci ho pensato Ho fatto pure la scimmel Perché non mi Prendo conto Che devo fare il super jump Oh Pure qua Dovrei farlo Ma non l'ho fatto Ok qua devo fare un altro super jump Sto odiando questo livello The noise Sbloccato Essendo the noise Forte forte Royce Sbloccato Ucciando 4 nemici di fila Con il tornado attacco Ah Ok Noise TV Sbloccato avendo così tanta combo Da avere noise Cash dalla tv Cioè questo dettaglio Non l'avevo notato Madman Sbloccato Prendendo un livello Mentre Pizza Face Era vicino Penso che sia successo In John Gutter Credo Però penso che gli voglio dare Noise TV Mi piace Noise TV Molto bello Sono pronto ad avere I baci e abbracci Che tu mi hai promesso The noise vs. Peppermann Ecco Non hai paura The noise Ti do molto confidente Ah non attacchi con i pugni Cos'è tirata? Ah le bombe E hanno pure la skin mia La bomba Ok E' molto forte The noise contro Peppermann Lascio delle mine Lui ci va sotto E' molto faticoso Invece rompere Le sculture Perché attacca più lentamente Vieni Eh Muori Ok Quasi due Ragazzi le bombe Come hai fatto? Non prende tanto Te ne ho messe due Perché adesso le bombe Ok Posso Mantenere una distanza Almeno Ok devo fare attenzione Peppermann Peppermann rompe le bombe Basta Oh Fammi 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 rompere il dipinto Ok Ti prego Ti prego L'altra bomba Ok Ci ho fatto Ciao Ah We did it L'abbiamo fatta Ho la chiave Noi si mi sta molto simpatico adesso Prima lo odiamo Perfect Questo Uh Non va nell'ascensore come Peppino Va direttamente sulla corda Però era incazzato con Peppino E l'ha tipo Disegnato Oh l'ho ucciso No Come o si Come ultima cosa del video Voglio vedere se riesco a fare il piramide No Però posso pararlo Beccate sta bomba Oh Posso Ok Questa parte con la scultura Va fatta con il canno Perché Posso attaccare molto Pridentamente i Peppino In questa situazione Quindi è un problema Però posso uccidere I minions Che Peppino Non poteva fare Sapete una volta ho pensato Che quando avrei giocato Come dei nostri Sarebbe stata una specie di hard mode Però Sai Oddio Sai stavo per dire Non sembra tanto hard mode Infatti è uguale Credo che sia uguale Che il resto Ok La parte finale Qua Con calma Ho fatto con calma qua Ho detto che va fatto con calma Fatti colpire Bravo No Non l'ho preso E che sei andato là Scolpito Guardalo Era tanto bello Dai Potevo benissimo andare a te No basta 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 Sono pure sparito Non ci sono più Va bene che penso che per il momento Va bene così Ho fatto molte cose Mi piace molto il personaggio Come funziona Le sue differenze rispetto a Peppino E le piccole cose I piccoli dettagli che cambiano Rispetto a Peppino Tu schiatta Ti odio Perché non mi fai fare P-Lack Intanto vi lascio Ci vediamo Metto a fumare con lui Non lo so Ciao